Non continuiamo a consumare terreno agricolo ogni volta che c'è bisogno di fare un intervento per rispondere a una domanda reale. A Cascina Zermone c'è un'azienda agricola che coltiva oltre 40 ettari di territorio producendo latte che viene immesso sul mercato della città di Milano. Vogliamo che questo latte venga conservato insieme ai suoi campi. Sono terreni di proprietà del Comune, rispetto ai quali le precedenti amministrazioni di Milano hanno deciso di realizzare un master plan che prevede sostanzialmente l'edificazione, scopi residenziali, servizi e comunità. È una superficie molto bassa, una superficie di 420 mila metri quadri per la tenda agricola per la quale è previsto una progressiva realizzazione di edifici, edilizia sociale, edilizia per le forze di polizia, edilizia popolare. Però sostanzialmente siamo sempre al solito adagio. C'è bisogno di case e consumiamo suolo. Anche noi siamo d'accordo che c'è bisogno di case, c'è bisogno di case per persone che hanno un reddito medio-basso a Milano, però a Milano ci sono 100.000 case vuote. Prima di risolvere sempre il problema attraverso nuovi consumi di suolo agricolo, in questo caso suolo che appartiene al Comune di Milano, di cui è proprietario, pensiamo che vadano messe nella disponibilità delle famiglie e centinaia di migliaia di alloggi vuote. Salute! Evviva! Evviva! Genna! Evviva agricoltura a Milano! Alla Cascina, lunga vita! Grazie!